Sopravvivere 24 ore alla nuova città Mega City su Fortnite Le regole sono molto semplici, qualsiasi cosa succeda non possiamo uscire da Mega City e dobbiamo provare a vincere Qua dice Calpis per shoppare il pass battaglia, mi raccomando Eccoci qui a Mega City, d'ora in poi non possiamo più uscirci Signori, sarà abbastanza complicato, però noi possiamo fare tutto E poi Mega City, rega, devo dire, è che è anche una città molto molto bella Però io non ho ancora capito benissimo come combatterci qui dentro Tipo adesso vedo che mi stanno sparando ma non ho ne ancora capito da dove Tipo lì c'è un palazzo gigantesco con un coso enorme, non so neanche che cavolo sia Però mi fa molta paura Scendiamo di un piano, no non si può scendere di un piano, cioè devo scendere per forza tutto Ma questo palazzo è uno scam, credevo fosse molto più lungo Oh distrutto, no 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 no, che cosa abbiamo qui che cosa abbiamo Ma c'è il Barret che si illumina al buio, ma che cacchio è sta roba ragazzi Perché sta il Barret florescente? Ok una kill fatta, prima kill della challenge portata a casa La safe si è pure chiusa qui, però io onestamente voglio iniziare a farmi tipo un piccolo bunker Dove metto tutte le cure di vita, così se la safe si chiude fuori Io metto tutte le cure di vita qui e quindi posso sopravvivere per un bel tempo fuori safe Dato che oggi non possiamo uscire da Mega City per tutta la partita Intanto a Mega City sento ancora un sacco di gente che fighta Il problema rega è che essendo una città così grossa Veramente è tosta, anche se ci stanno un sacco di nemici Non si vedono, non si riescono a vedere Poi riesci a far perdere le tracce veramente facilmente Che è una cosa sia positiva sia negativa, dipende dal punto di vista C'è pure un nemico qui davanti rega Non so che cosa sia questo Uh l'assalto viola E anche un bel big, così siamo full shield E c'è pure un tizio qui davanti E questo qua mi sembra onestamente abbastanza bravo a giocare a Fortnite Vorrà dire che sarà una bella sfida per noi Però non riuscirai mai a deciderci amico mio Non riuscirai mai forse Vai vieni Vieni qui, vieni qui che ti distruggo Ah no, finito tutti Ah, non aveva neanche shield E si è buttato così a kamikaze Qua c'è pure un tizio con un'auto veramente velocissima raga Ma che cacchio sto sentendo Ah è una moto No raga c'è troppa gente C'è troppa gente Sopravvivere in sta città credevo fosse molto più facile In realtà si sta rivelando abbastanza complicato Ma a noi piace così Ok, sono entrato dentro l'auto del tipo Siamo amici vero? Inizio a spararti Però non è nulla di personale Vieni qua Bro Bro Ok l'ho ucciso Mamma mia raga 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 Sto messo malissimo Sto messo malissimo Ho finito pure tutto Spero che adesso non mi vogliano uccidere altre persone Vi prego io non esisto E qua c'è altra gente che fighta Qua abbiamo pure trovato la katana Che può essere abbastanza utile Vado a pusharlo È il momento giusto È il momento giusto Dovrebbe essere tipo qua che si cura Ma dove cacchio è andata a finire raga? Questa cosa non mi promette per nulla bene Raga fortunatamente Megacity è in safe E soprattutto il punto che ho messo io Dove ho lasciato i medikit Oh mio dio quanta roba Questo qua è tipo il mio paradiso raga Di cura di vita Devo fare una mega scappata Per andare a portare tutti questi medinebbia Ok raga non so neanche io il motivo Del perché ce ne siano così tanti Però va bene Va bene Intanto qua c'è un tizio con l'auto Onestamente vorrei provare ad ucciderlo Però Ah 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 Mi sembra molto cattivo sto tizio Raga ho paura di morire Vabbè andiamo via Andiamo via col coso Vai Aiuto Dov'è il tipo? No raga mi sta pushando Ah Ah voglio Ma va fa un bagno Tentativo numero due Ma questa volta sarà la volta buona Megamol devo dire che mi sta stupendo Sempre di più Perché è veramente complicato orientarsi Non che io abbia un senso dell'orientamento molto sviluppato Però qui veramente raga faccio Fatica Ecco Vuole andare di là Ah Ma che cavolo No raga No 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 C'è un altro C'è un altro Via 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 Non mi piace Non mi piace qua Ma basta Perché devi fare questo? Oh Sei antipatico Lo sai Siamo pure in safe Il problema è che non abbiamo assolutamente cure di vita Quindi probabilmente Prossima safe non saremo ancora in safe E direi che mettersi da parte Un po' di cure di vita Può essere abbastanza utile Dato che non possiamo uscire da mega city E qua c'è un tipo Oh 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 Let's go Un'altra kill E questo qui aveva addirittura due flopper E 150 di me di nebbia Quindi Ottimo Ottimo Lo andiamo subito a mettere all'accampamento Oh un altro tipo qui raga Questa volta credo di essere abbastanza morto Orcocan No raga Questo qua è troppo forte Ma prende tutto Oh Godo 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 Quanto Godo raga Non so come ho fatto a non morire Però sono molto felice di questa cosa Raga la cosa divertente è che c'è ancora un sacco di gente Guardate Si stanno pushando Si sono pure appena uccisi È il momento di Calpis Di trionfare Di distruggergli Vieni qua Vieni qua Distruggergli tutto Mamma mia Godo 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 Let's go Ci prendiamo la mitraglietta Ci prendiamo il pompa blu Ci prendiamo questo qui che ci dà un sacco di vita Siamo a cavallo raga E Mega City è pure in safe Cioè non è proprio in safe Però tipo qui siamo in safe Quindi qui possiamo creare il nostro accampamento E mettere tutte le cure Cioè io raga onestamente Non mi serve a niente questo potenziamento Scivolata munizioni Però sono molto curioso di vedere Come mi dà le munizioni Ma non mi dà nulla C'era scritto che mi dava le munizioni medie raga Non mi dà un cavolo Vabbè proviamo dopo Per ora dobbiamo uccidere questi tizi Eccolo qui Eccolo qui Vieni qua Mi ha fatto malissimo Mi ha fatto malissimo Mi ha fatto malissimo Mi ha fatto malissimo No 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 Raga 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 Non mi vedono Ok sono invisibile raga per fortuna Non so come abbiano fatto a non vedermi Ma si sono appena uccisi E io non ho troppa vita Onestamente starei anche qui Tranquillo Senza rompere scatola a nessuno C'è un altro tizio che sta volando Ma raga ma mega city C'ha gente sempre ovunque È molto più complicato del previsto Sopravvivere qua dentro Guardatelo Vieni qua Boom 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 Ok Lui l'abbiamo massacrato Però vabbè era abbastanza semplice Perché era sopra T'univia strana C'è il tipo col barret Brutto infame E il tipo invece È appena entrato dentro A prendere la cosa Del bunker raga Spero di non essere Ucciso dal tipo col barret Però io devo entrare qua dentro Devo entrare qua dentro Non me ne frega niente Mamma mia L'abbiamo ucciso pure lui Che cosa aveva? Il coso mitico No 112 Siamo ancora vivi Non ancora per molto Probabilmente raga Non ancora per molto Come cacchio faccio? Vabbè entro qui No slurp 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 Ok dammi la slurp oro Ottimo Non posso piazzare Assolutamente nulla Ok per ora si siamo eh Per ora siamo abbastanza vivi E vedi ti abbiamo pure il pompa blu Dunque devo dire Che sto coso dello slurp È veramente illegale signori Cioè siamo di nuovo tornati Full vita Che non avevamo nulla E eravamo pure fuori safe Quindi veramente incredibile Però il problema è che probabilmente Non basterà per sfuggire da questa situazione Come cacchio faccio? Io provo ad uscire Sperando che non mi stia aspettando qua fuori Ok no non mi sto aspettando qua fuori Ottimo Direi che è il momento Oh Di uscire fuori dalla safe Ti prego ti prego ti prego Muoviti 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 E ok Mega city diciamo che è ancora più o meno in safe Veramente poco in safe però Eh purtroppo non lo è più A me piacerebbe rimanere qua dentro Per provare a fare la sfida Però abbiamo troppe poche cure Se me ne andassi Probabilmente morirei sicuramente Quindi challenge più o meno fallita Però almeno adesso vinciamo la partita Oh nemico qui Attenzione Attenzione Guardate eh Guardate un pochettino Pro player di Fortnite Distrugge un nabbetto Cacchio Non è vero Chi è il pro player E chi è il nabbetto però Vediamo un po' Adesso vi faccio vedere la potenza di sto pompa Motherf*** Tutto Tutto